Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di MonosporZero7 Siamo qui per parlare di MotoGP, signori Allora, allora, allora Ieri vince una Yamaha con una volta a Cartelero Ancora una volta, cioè ragazzi, l'hanno vinte tutte le Yamaha 3 Gran Premi, 2 vince Cartelero, 1 Vignales Hanno fatto 3 su 3 e dimostrano che, come pronosticato da inizio mondiale Questa Yamaha crescerà molto rispetto alla Yamaha dello scorso anno E prevedevo un po' questo calo della Petronas, non fino a questo punto Perché ragazzi, Morbidelli è undicesimo nel mondiale Valentino Rossi addirittura diciannovesimo Cioè Valentino Rossi proprio male male Ma non credevo neanche che avesse fatto dei passi così avanti la Yamaha Per essere la prima forza Solo la Suzuki, secondo me, può dare filo da torcere E Marquez Di questo ne parleremo dopo Allora, allora, allora Fa 3 su 3 la Yamaha, lo fa con un certo Fabio Cartararo Che si porta a casa la seconda vittoria consecutiva Il quinto successo in MotoGP Ho letto sul televideo Non voglio dire quale Perché non sa mai che mi mandano qualche strike o cose del genere Però ho letto sul televideo a sesto successo in carriera Allora, forse Se andiamo a mettere anche Moto2 e Moto3 Però Ditemi sta cosa Perché in MotoGP magari Valentino Rossi dice L'uomo che ha vinto 9 titoli Eh sì, ma non è che a uno che in Formula 1 Vinge con la Formula 2 I titoli diventano di più Cioè, insomma, quindi Devo capire un po' questa differenza tra Formula 1 e MotoGP Allora, Quartararo è un fenomeno Ha vinto comunque con una cosa come Se non mi sbaglio 4-5 secondi di vantaggio Anzi, sapete cosa? Ve lo vado a dire subito Però, secondo me, si poteva Diciamo, in prospettiva Verificare una battaglia cerima con Olive Con Bagnaia Bagnaia che gli si era tolto la pole per niente Cioè, nel senso, è un po' lo stesso discorso in Formula 1 Vabbè, in questo caso non c'entrano niente tra Klimitz C'entrano molto di più il fatto delle bandiere gialle Però, ragazzi, cos'è una parsa L'ha detto anche Quartararo Io a quel giro non sarei mai arrivato Bagnaia meritava la pole Meritava di giocarsi alle 6 carte in gara Considerato anche che Quartararo è partito male Quindi, insomma Secondo me Bagnaia gli sarebbe giocato bene Le sue chance in gara partendo dalla pole Perché arrivava sicuramente a 3-2 Poi non so se sarebbe arrivato primo o secondo Secondo me avrebbe fatto secondo lo stesso Perché era Yamai di un altro pianeta Però mi sarebbe piaciuto vedere un po' una battaglia Ecco, tra Quartararo e Bagnaia Che comunque sono due piloti molto giovani E due piloti molto molto forti, ragazzi Bagnaia che alla fine è partito undicesimo Rimontato comunque fino al secondo posto Certo, complici delle cadute Che un po' sanno di colpi di scena Come Zarco, come Rins Quindi, insomma, ragazzi Anche Miller Ci sono state comunque delle cadute Però dubito che Zarco e Rins Sarebbero arrivati davanti a Bagnaia Sinceramente perché Bagnaia Veramente aveva un passo Superiore a loro Ed è anche il miglior pilota Ducati Per ora Bagnaia Perché è secondo nel E secondo nel mondiale Bagnaia è arrivato sia a 4 secondi e 8 Da Cartararo E con poco vantaggio Su Mir e Morbidelli Poi leggermente più staccati Bindred e Spargaro E poi settimo Mark Marquez Che comunque autore di una buona gara Vedremo fino alla fine Quanto ne avrà per recuperare Quindi Yamaha che fa 3 su 3 Vignales che si perde Insomma, io devo capire un po' Perché in Formula 1 Non è sostanziale la differenza Tra due compagni di squadra In Formula 1 conta più sicuramente la macchina Diciamo macchina 70% e pilota 30% In MotoGP invece è molto più aperta la cosa È molto più un 50 e 50% Certo, se la Formula 1 fossero tutti i gran premi come Imola Sarebbe un altro discorso Dove si vede molto più la differenza tra i piloti Però insomma, se andiamo a vedere la MotoGP Tra i compagni di squadra Bagnaia ha 46 punti Kay Miller ne ha 14 Praticamente un terzo dei suoi punti Se andiamo a vedere Cattelore e Vignales si separano 20 punti Ragazzi Quindi insomma, dopo che erano a pari punti Si sono separati 20 punti Praticamente tutti in un gran premio Ora che ci penso Perché sarebbe quello di ieri a Portimao Se andiamo a vedere Binder e Oliveira Binder è riuscito a fare 21 punti Con la KTM E Oliveira ne ha fatti solamente 4 Lui che era il capitano Lui che è il capitano della KTM Se andiamo a vedere la Ducati Pramac Orge Martin Vabbè, Orge Martin non ha partecipato al gran premio di Portimao Ed è un'altra cosa Se andiamo in Suzuki Ancora ancora Diciamo che si sente di meno la differenza Perché Mir è quinto Con 38 punti Mentre Rins è settimo con 23 Quindi sono comunque 15 punti di differenza Che sono tanti Però per il momento Spiccano in lotta per il mondiale Le due Yamaha Due Ducati Quelle di Bagnaio e Zarco E Mir Secondo me si potrebbe raggiungere Tra questi Solamente Rins e Marc Marquez Che comunque insomma Per il momento Ha scavalcato un bel po' di piloti Quindi da 23esimo E è arrivato a Dove è arrivato? A 14esimo nel mondiale Quindi poco a poco Recupererà posizioni E lo vedremo nei primi test Quindi deve pensare passo dopo passo Marquez Non poteva pensare di vincere già la prima gara Però insomma Già comunque con tre cadute Perché secondo me Zarco, Rins e Miller Gli arrivavano davanti Non penso a Valentino Rossi Cioè forse sì Perché alla fine A 17 secondi dalla vetta Quindi a 13 secondi da Morbidelli Ci poteva arrivare Valentino Rossi A 13 secondi da Morbidelli 13 secondi vuol dire Che perdeva Circa 4 decimi al giro E diciamo che ci può stare Dai Non penso che Valentino Era così Talmente inferiore a Franco Di perdere più di questo terreno Ragazzi Katpatiem Che invece È calata sicuramente tantissimo Rispetto allo scorso anno L'unico che riesce a gestirla Sembra Binder Quando in realtà Il più forte sembrava Oliveira Che l'anno scorso Ha fatto una polla e tre podi Quindi insomma Mentre Binder ha fatto Salamente una vittoria Mentre Oliveira Aveva fatto qualcosa Di vero e di più straordinario Tra l'altro Polman è vincitore Dello scorso anno Oliveira Quest'anno invece si ritira Io ho visto che era caduto Poi forse si era rialzato Però qui mi esce La grafica Me lo dà per sedicesimo Probabilmente si Si è caduto E poi si è rialzato È caduto ieri anche Poi le Spargarò Si è ritirato pure lui Deve imparare un po' A gestire questa onda Poi le Spargarò Non aveva iniziato Proprio malissimo Ottavo Tredicesimo L'ottavo posto Ci poteva stare Però poi È andato sempre incalando Vedremo Di certo non si chiederà Di tenere i ritmi di Markets Però ragazzi L'anno scorso Poi le Spargarò Riusciva veramente A ottenere dei ritmi Molto molto alti E addirittura Ha fatto 6 podi Quindi l'anno scorso Poi le Spargarò Quindi vedremo Quest'anno Come si troverà Con questa onda Che è ultima Nei costruttori Quindi vediamo Zarko Si sapeva che Alla fine è caduto Perché secondo me Avrebbe fatto I primi 5 Ci sarebbe entrato Zarko Però insomma Era il leader del mondiale Fino alla seconda gara E secondo me Se ieri andava a punti Non aveva neanche Troppo distacco Da Cartararo Cioè se ieri Otteneva 13 punti Arrivando quinto Non mi ricordo Quanti ne prende il quinto Insomma Sbaglio 13 Se ieri Arrivava Aveva quei 13 punti Zarko E sarebbe a 53 Comunque a meno 8 Da Cartararo Che sono niente Ragazzi Vignanes Che si dimostra Un pilota Altamente discontinuo E discontinuo Anche Cartararo Certo Cartararo Semplicemente Parte in pol Se ne va Un po' come Orgelorenzo Ricorda Cartararo Un po' Se ne va La gara Questo non è successo ieri Però quando accade Che cala Lui praticamente O fa primo O fa undicesimo Perché deve calcolare Al millesimo Le gomme Abbiamo notato L'anno scorso Quante volte Ha fatto la pole Cartararo E quante volte Poi è andato In diciottesima posizione Portando la pole Un qualcosa Veramente di incredibile Cioè Che non Si riusciva a spiegare Praticamente nessuno L'anno scorso La Petro Nassandova fortissimo Adesso dopo tre gare Ha ottenuto solamente Tre piazzamenti In zona punti Mai Una gara Dove sono andati Entrambi appunti La prima gara Morbidelli Diciottesimo Addirittura Il rossi dodicesimo Poi nelle successive due Morbidelli Si è un po' ripresa Con un dodicesimo E un quarto posto Comunque Ottimo quarto posto C'è da dire Questo di Franco Morbidelli Bene È andata anche L'Aprilia Ha benissimo Anche la Ducati Pramac Devo dire La Ducati Come si chiama La Vintia Quella di Bastianini E Marini Quindi insomma Stanno andando bene Marini Che si dimostra Leggermente inferiore Però era Bastianini Perché ha ottenuto ieri Un dodicesimo posto Mentre Bastianini Sempre In top 11 Una volta undicesimo Una volta decimo Ieri nono Quindi veramente Un ottimo campionato Con Bastianini Ancora più ottimo Campionato di Alex Espargarò Che non mi sarei mai Aspettato Così forte ragazzi Settimo Decimo E sesto Quindi insomma Tre gran premi ottimi Anche per Alex Espargarò Quindi Se andiamo ad analizzare Comunque un bagnaia Devo dire che non mi aspettavo Io sapevo Che sarebbe andato Molto forte in Ducati E avevo già pronosticato Che sarebbe stato il migliore Dei piloti Ducati Però ragazzi Bagnaia Così un impatto Così non me lo sarei aspettato Ha fatto praticamente Una pole E considero anzi Due pole Ma non una Ha fatto praticamente Due pole Due podi Quindi insomma In tre gare Quindi qualcosa Veramente di straordinario Rischiava anche di vincere Ieri se partiva in pole Un po' opaco Nella seconda gara di Qatar Dove ha fatto sesto posto Però insomma Un super Bagnaia Che attualmente Secondo nel mondiale A meno 15 Da cartello Che comunque Un distacco abbastanza importante Dopo tre gare Ma comunque Bagnaia Secondo nel mondiale Avendo fatto una pole Due podi E ripeto Una pole Che poteva sicuramente Essere due pole Ragazzi Quindi Insomma ragazzi Queste sono le mie opinioni Per il mondiale Secondo me ci sono Le due Yamaha Che sono le favorite Anche se con Più cartello Forse di Vignales Bisogna vedere Chi è il più continuo Tra i due C'è la Suzuki Che è la moto Più costante Ma comunque Meno prestazionale Della Yamaha Dove il Rins È quello più forte Però Mir È quello più costante Poi c'è Marquez Che recupera un sacco Di terreno Verso il finale Di stagione Ma non credo Così tanto Da metterlo subito In condizione Di vincere il mondiale Entro tre quattro gare Secondo me Ci vorranno ancora Cinque sei gare Per capire dove sarà La onda Dove sarà Marquez Intanto un settimo posto Si porta a casa Quegli otto punti Che comunque fanno Brodo Che comunque fanno Morale Ma comunque ci sono Davvero tanti tanti punti Da recuperare per Marquez Cioè lui ha Nove punti Sì Lui ha nove punti Ed è comunque Raga Ha cinquantadue punti Riccardo Che non sono tantissimi Oddio Perché Marquez Ha vinto nei mondiali Con cento e pass Punti di vantaggio Non sto scherzando Però Anche se non sono tantissimi Non sono nemmeno pochi Ragazzi Quindi insomma bisogna vedere Quando si riprenderà Ora il prossimo Gran Premio È in Spagna Praticamente tra due settimane Quindi altro tempo di recupero Per Mark Marquez E vedremo insomma Fino alla fine cosa ci sarà Per me ci sono le Yamale Suzuki Dove il Rins È quello più forte Ma Mir Quello più costante Che ha già 15 punti più di Rins C'è Marquez E c'è secondo me Anche Bagnaia Miller praticamente Già tagliato fuori Sicuramente Non taglio fuori Zarko Ma per me Se mi dite Yamale Suzuki E Ducati Per le Ducati Io ci vado a mettere Zacco e non Miller Perché è veramente Troppo troppo distante Ragazzi Deve prendere praticamente 50 punti a Cartera Roo E sono veramente Troppi Troppi Per me Jack Miller Due non riposti E un ritiro È troppo lontano Dal mondiale Anche Martin Secondo me Non riuscirà Ad arrivare al mondiale Nonostante comunque Si dimostra Un ottimo pilota Però Secondo me I favoriti A vincere al mondiale Sono Cartera Roo Bagnaia Vignales Mir E Marquez Questi sono i 5 Che vi dico io ragazzi Detto questo Il video termina qui Spero che il video Vi sia piaciuto Se ti è piaciuto Le video lasciate un mi piace Caso contrario Mi dici like Comment se siete d'accordo Se siete d'accordo con me Se non l'hai ancora fatto Iscrivetevi al canale Descrivetevi al link Poi iscrivetevi su Instagram Damono Sport 07 è tutto Come cazzo l'ho detto Damono Sport 07 è tutto E noi ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi